Buongiorno a tutti ragazzi per tornare in offre un altro video e oggi faremo la stavo facendo una partita poi mi vengono dov'è in mente gioca 1700 di box se non arrivo con tre partite calcolando cominciando da questa in top 15 facciamo devo scioppare una cosa del set del pomodoro non la skin perché me li sto tenendo per il passo e quindi non devo andare cioè tipo c'è il balletto del 500 c'è il piccone queste cose qua e niente io non voglio prendere quindi spero spero di arrivare in top 15 io stavo scendendo a l'avevo cominciato già di prima il video poi neanche mi ricordo che è andato male ma non mi ricordo e e quindi sono atterrato male cioè non ci arrivavo e quindi mi sono fermato qua ho lottato lo sbuono e ora boh sto pagando un po' me la giocherò un po' camper perché gli altri youtuber fanno se vinco non mi scioppo ma io gli altri youtuber sono gli altri youtuber gli altri youtuber sono più forte di me e poi soprattutto gli altri youtuber fanno più challenge fanno tipo se perdo scioppo la skin non mi ricordo ma perché loro fanno i miliardi con i suoi video ogni video gli danno i miliardi li fanno diventare ricchi poi li sono tutti ricchi quindi sciopano pure ogni giorno tanto i soldi c'è la che gli frega a loro ma io qua non faccio neanche un centesimo con ogni video perché dobbiamo salire infatti quando saliremo facciamo dopo 10 l'efficazione è troppo semplice quando saliremo di iscritti io porterò ancora più cioè più video così quindi così diciamo prendiamo questo dai ora se poi vediamo che c'è è troppo semplice facciamo dopo 5 la vittoria reale oddio se poi è troppo semplice dopo 5 se facciamo la vittoria reale che bello da da 100 lo posso anche prendere tanto so 100 devo decidere se prendere la squadra la squadra non non andatevene via dei visitatori oppure la squadra venite cioè I love scienziati non so in realtà io stiamo a non spendere per ora uno che muore ci dà pure i punti di posizione raga dopo che ci non scioppo eh dico se poi vediamo che tipo siamo in top 7 top 6 e allora potremmo anche salire un po' che ragazzi sia non voglio spendere ma sia non voglio fare la cosa troppo semplice perché ok che non vuoi spendere ma il conto è uno il conto è un altro raga ho un problema raga lui ha un problema raga lui ha un grandissimo un grandissimo un grandissimo problema questo nemico oh io lo so che questo è un grande poi io ho 5 colpi secco ho anche il secco più bello del suo ma io ho 5 colpi poi non cioè qui stiamo costando un palio dei big bucks non mi va di giocarmela così capite una cecchionata vi rovina la pastiglia capite quella aveva 97 colpi secchino e grazie che se la gioco a secchinare e grazie e se non mi secchinava era morto avete visto c'è sono molto indeciso ragazzi non dobbiamo perdere facciamo così ciao Renato sto registrando un video sono un po' impiazzato che? no perché c'è voglio un gioco è il mio turno dai metti un gioco dai metti un gioco e rompere un po' le scatole lo so quando c'è Tommaso Milano fa così io lo dico che Tommaso è scemo infatti sto facendo un video giochi un 1700 big bucks se per se perdo devo shoppare secondo me c'è quando c'è una cosa super figlia dovrebbe infatti lui sto aspettando per il pass battaglia no ma shoppo penso che shoppo le due cose da 100 e arrivo a 200 oppure il valore 500 ma non tipo c'è il pomodoro che ne costa 1500 ma però se no non posso shoppare pass eh infatti me lo so si ma non è che se vinco cioè non è che devo vincere la partita per non shoppare devo ma lui non do vincere che ti stavo dicendo? beh vabbè non so ah te lo dico dobbiamo arrivare in top 10 per non shoppare spero di non però questi qua non il pompa ho un'idea sì ma ti consiglio di scappare perché io sono una gappa capito so abbiamo l'ultima possibilità se perdiamo dicendo è venato ah se no shoppiamo questo è uno di questi sì sì dico è uno di questi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso scappare così, non avrei armi. Devo prendere delle armi a volo e poi scappare. Non posso, non posso morire, non posso. È contro le leggi, non posso. È troppo, non posso morire. Mi stanno busciando? Sì, la risposta è sì, sì, la risposta è sì. Devo scappare. Sì, sì. Ok. Devo prendere il bar. Devo prendere il bar. Pumper. Spacco. Aiuto. Così via, scappa via. Devi scappare molto via. Cosa? Mi sento male. Cosa? Mi sento male. Che ci devo fare? Che ci devo fare? Che ci devo fare? Che devo fare? Ragazzi. 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 Quanti fai. Aiuto ragazzi. Ragazzi. Sto morendo, 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 perché fai rumori strani razzo fa rumori tipo sei morta a partire non so se l'hai sentito dal video ma fa tipo un allarme ok Grazie a tutti E' una cosa allucinante Ragazzi 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 Non so proprio come fare Già splash qua sopra Come cado da qua sopra? Non è da don't you splash? Non lo è questa è la besta d'autopopale grazie a te vedo L'hidrop! Quell'hidrop mi salverà la vita se ci troverò delle cure! Lì c'è pure un falò! L'hidrop sta continuando a fare qualcosa strano! Cure! Lancia razzi! Quattro sono Jack Splash! E' un'idea! Ora torno a prendere le bende! Un attimo! Quattro Jack Splash mi arrivo a 80 di vita! Perchè ora io mi faccio questo falò! Non è che pusha a me! Ogni volta che esistano e io sono qua, ogni volta mi pushano! Uno! Due! E che avevo detto io? Uno! Due! 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 L'hidrop! Scala! Un nome kitschDas e dove deve continuare! Veduh... Che cacchio sta facendo questo? da che stanno venendo troppi player non devo non morire di oggi è sandole non posso ritornare alla top 15 vero ciao Ale sto facendo un video se non arrivo in top 10 devo shoppare in 3 tentativi questo è l'ultimo tentativo e siamo in 16 aiuto no no se non arrivo in top 10 se vinco è troppo cioè shopperò sempre tipo 300 o 400 V-Bucks però non mi va a shopparli ok che sono pochi ma ok in 15 siamo ma loro mi sentono penso di sì beh io sono andato in chat a gioco no se ci vai non ci sentiamo noi perché non siamo nello stesso gruppo eh ma io comunque sono perché non ti ci fa andare se non sei cioè se non sei in gruppo non sei non hai forno io sto acceso e non sei nel gruppo siamo in 14 dovete morirne 4 comunque non so se ti sentono moritene 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 si allora lì se non vi dice ciao se non lo sentite non so se vi sentite dovete morire 4 persone hai finito compiti hai finito compiti hai finito compiti sì sì ho sentito ho pure pochi ma questa può salvare la vita quindi eh ma non ce l'ho ne ho pochi mi lascerano faccio così iconica però mi sta pushando uno mi stanno pushando due volevo dire 99 a questo io ho levato tantissimo a uno io ho fatto 100 ok è morto mi sta pushando un altro già per il che la mica sono a coppie sono in singolo 90 a questo che ho fatto ha giampato via siamo in 12 sì ho paura che per sbaglio levo il video perché tocca la cosa di share ragazzi non so che fare perché io ho fatto 90 sì ma se poi magari mi da un colpo da 200 in testa può fare il nonno blu così gratis messo per terra così grazie ora vado ora cosa siamo in 10 ragazzi non devo sciampare e alla fine come volevi che sciampavo vabbè che vuol dire sono problemi tuoi 900 perché 1000 se no ti potevi sciampare in farsi invece di 50 sì lo so che scusa che scusa massimo arriva a 10 un video arriva da 12 però ma che stavi dicendo comunque no dimmi se supera cosa non ci arriverò mai sì vabbè 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 ma la faccio molto prima 50 like non li troverò mai ma manco ci arrivo di shopping tipo di shoppare 50 50 50 50 magari eh ma voi da 100 mila ma ma io no uno è sotto di me sì ma prima mia ma io non voglio shoppare no dov'è questo che non sto capito come fai ah sì l'ho ucciso ecco la banana scema bella raga spero che il video vi sia piaciuto se vi piaciuto mettetelo iscrivetevi al canale attivate la campanellina e niente ciao